una volta la terra si fermò per due ore tra la notte e il giorno chiamò il suo dottore dottor universo sono tanto malata ha un'aria in effetti piuttosto inquinata movimento ne fa giro in continuazione e allora sarà il fumo o l'alimentazione ha bisogno di una dieta rigida e drastica più frutta verdura e meno oggetti di plastica e il ghiaccio sulla testa come mai l'ha tolto febbre alta dottore purtroppo si è sciolto faccio il mio tre un respiro profondo mi spiace non riesco ho pochi alberi nel mondo è un po disastrata ma i fiumi sono asciutti l'acqua dottore la sprecano tutti mi dia un terremoto tre o quattro uragani ci sarà un altro modo per far capire agli umani la giornata della terra proviamo così ok una volta all'anno ma se non passa torni qui per far capire agli umani la giornata della terra proviamo così ok una volta all'anno ma se non per far capire agli umani la giornata della terra proviamo così ok una volta all'anno ma se non grazie a tutti grazie a tutti